8 giugno 1987 Nasce Telefono Azzurro, una on-loose con l'obiettivo di sostenere e difendere i diritti dei bambini. Telefono Azzurro, con il numero 19696, fornisce un servizio di consulenza telefonica 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Gli operatori sono psicologi e pedagogisti che forniscono un supporto a bambini e adolescenti fino a 14 anni. Nel 1990, grazie a un DPR, Telefono Azzurro è riconosciuto ente morale, non riceve finanziamenti pubblici e si sostiene esclusivamente con contributi volontari.